questa cosa come riflette mica che storia che riflette ciao Dani siamo tornati ma quant'è che facciamo un video due mesi e tu hai sempre cassinato con le corde allora oggi siamo all'8 di agosto questo video lo rivedete a settembre perché ci sono tutte le negozio chiuso quindi siamo venuti ad aprire il negozio solo per la nuova non si capisce dal video non si capisce cambia completamente il design e non solo ci sono delle novità dal punto di vista tecnico Dani ci saranno tutte le versioni tutte è chiaro che spopola 1619 però ci sono tutte e questa è la 1619 noi abbiamo cominciato il test con la 1619 vi diciamo ragazzi oltre ora poi vedrete subito con video tecnico vedrete subito tutte le novità ma è bellissima non ha detto la Wilson loro puntano sulla grafica è bella vera tutte le cose e novità che usciranno di Wilson loro pensano che la grafica diventerà un materiale cioè cosa vuol dire vale il valore è come un materiale quindi è importantissima la grafica per Wilson come se fosse un'opera d'arte quindi ragazzi ora subito è video tecnico così vediamo tutte le grosse novità della della blade 16x19 e poi come è andata in campo ciao 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 puro, amerà tantissimo questa versione che ritorna come non puoi fare il video con We Are Paddle cioè, ieri ha fatto 40 anni Roger perché ricordiamo che oggi siamo all'8 di agosto e quindi oggi siamo al 9 di agosto e ieri Roger ha fatto 40 anni mamma mia, tanta roba comunque, buon tennis a tutti ragazzi, Dani si è innamorato da quando l'ha vista, hai detto è bellissima, un po' piccola per me, però bella beh, c'è la versione, ci sarà poi la variante 104, piccola anche quella chiediamo una variante da 115, cominciamo a essere 118, 119 ciao ragazzi, buon tennis e tanta roba, allora lui, sono lei buone vacanze, ciao a tutti 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 ciao a tutti